ciao oggi siamo qua io e giacomo perché vogliamo andare un canone in zuppa però c'è un mare della madonna e ho paura anzi abbiamo paura dovevo fare le foto e mi sono messo i pantaloni del contrario cioè tipo sembrava normali ho sbagliato io intanto la sera prima oggi 50 per cento e ora si esce con simone amore siamo a cena siamo in the swimming pool pizzino lui mangia la pizza così in un posto dove fanno le pizze gourmet abbiamo cenato la pizza era buona allora loro guardano la champions io voglio sto elaborando un piano per rubare lui ovviamente si scherza oltre a qualcosa davvero bello abbiamo trovato i pesci wow stanno giocando per scegliere il nostro futuro perché lui non vuole fare il nostro futuro quello che sta giocando quindi sta giocando non so se si veda molto ma riesco a vloggare anche con ogni cosa quindi sto vloggando bene e siamo in mezzo al mare è difficile possiamo vloggare con questo perché c'ho il sacchettino apposto per non far smerdare il telefono e siamo qua ci sono fermati un attimo e il vento fortunatamente porta a riva quindi siamo andato in là invece no però è veramente figo vloggare così voglio arrivare una spiazza alla giusta per non fare il mare ci stanno ci stanno no 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 voglio fare una foto metà raggiunta metà raggiunta siamo bellissimo guarda il video del primo bagno possiamo vedere qua è bellissimo veramente figo io ora faccio le foto così de botto senza senso tanto ormai siamo qui con Giadviv ci divertiamo sono le 12 e un quarto e ora ripartiamo ma stai benissimo con quel coso Vez sono le 12 e 38 siamo appena tornati sono molto entusiasmante mi è lasciato per un'ora sistemiamolo e basta siamo arrivati qua sono le 16 e 27 andiamo a fare il bagno un mare wow abbiamo appena finito wow è stato molto bello cioè tipo non lo so è stato rilassante questo bagno c'era tutte le onde è stato bello fare il bagno con le onde te approvi il tuo primo bagno ti approvi io il primo bagno l'ho fatto il 18 di aprile io l'ho fatto il 29 di maggio è stato rilassante